ah 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 che succede? ah che cosa? cosa è successo? guardate qua, che casino, ma cosa succede? perché è tutto per terra? è tutto buttato così? oh no, ci saranno le vute dei ladri, c'è anche la lampadina per terra, ah tutto un disordine, ma com'è possibile? No, bambini, voi avete visto chi è stato? Come mai è tutto un casino così? Come faccio ora? Devo raccoglierti i piatti. Ma chi è stato? È stato ladro. Ci sono stati dei ladri a casa. Aiuto, come facciamo ora? Devo raccogliere tutto in un sacco da spazzatura. Ecco, prendiamo il sacchetto. Un certo letto, che c'è già altra spazzatura. E iniziare a raccogliere. Allora, le pinze. La coperchio. Altro coperchio. Pintola. Bambini, guardate quante cose per terra. E se sono stati i ladri? Se sono davvero i ladri? Oh, c'è ancora qualcuno che si muove dietro il letto. Adesso vediamo chi è. Andiamo insieme. Mi sa che c'è qualcuno. Devo andare a vedere. Oh, il sacchetto è caduto. Oh, c'è un ladro. Aiuto, aiutatemi, aiuto. Oh, io non sono un ladro. Chi sei? Perché sei in casa mia? Cosa fai in casa mia? Perché ti nascondi dietro il letto? Io sono Kevin. Mi chiamo Kevin. Non volevo spaventarti. È che ti ho preparato un regalo. Ci stavi tanto, tanto simpatica. Lo sai? E perché sei entrato in casa mia? Non puoi. I ladri? Fai il ladro? No, io non ho fatto il ladro. Non volevo spaventarti. Scusami. Ti volevo regalare questa bellissima sedia. Guarda, che è mia per te. E hai fatto tutto questo casino per regalarmi la sedia? Sì. Perché non sapevo come spiegarti che mi piace tanto, tanto, tanto. Oh, ora ho capito. Non ti piace. Scusami. Non volevo fare tutto questo casino. Non entro più in casa tua. Ma la prossima volta bussa nella porta. Si apro. Possiamo fare amicizia. Andare a fare giro in parco insieme, se vuoi. Eh, va bene. Scusami. Ora devi aiutarmi a raccogliere tutto questo disastro per terra. Va bene. Ci provo. Allora. Oh. Vediamo di prendere il coperchio. Tutto quello che ho buttato giù. Altri coperchi. Devi scusarmi ancora. Non volevo. Ora devo andare di qua. Oh, la scatola. Mettiamo tutto nella scatola. Che disastro. Che sto facendo? Ti metto qua tutto vicino alla scatola. Ora ti ho aiutato come potevo. Devi scusarmi. Ti regalo questa bellissima borsetta. Guarda. È per te. Tieni. Ti piace? Sì, mi piace. È molto bella. Guardate, bambini. Che bella borsetta. Grigia, grigia. Con tantissimi disegnini sopra. Sei perdonata. Va bene. Ma non entrare più in casa dalle finestre. Ora ti preparo la cena. Prendiamo in cucina. Vediamo cosa posso fare. Cosa c'è nel frigo? Prendiamo cosa c'è nel frigo lì. Oh, c'è la carne. Oh. Vediamo da questa parte. Oh, ci sono le vie. Oh, verdure. Faccio le verdure. Ora faccio le verdure, ok. Pento. Ci vuole qualche minuto, bambini, che sia pronto. Ok, pronto. Ecco. Questa la cena è per te. Tieni. Non me la dare così, Manu. Prendi il tavolo. Oh, certo. Prendo il tavolo. Sì. Eh, prendo anche una sedia. Aspetta, Domi. Tavolo, sedie. Metto il piatto qua su. Oh. Scusami, mi sono un po' stancata. Non volevo fare tutto questo casino. Mi hai già perdonato, vero? Ora mi alzo, mi siedo al tavolo. Vediamo. Mmm, profumano tanto di buono queste buonissime verdure che hai fatto. Fammi andare a prendere il pane. Ecco il pane. Ah. Ora possiamo mangiare. Sei sicuro che tu non hai fatto niente di male e non sei un ladro? Sì, io non sono un ladro. Guardami le scarpe. Ho bellissime scarpe. Se tu pensi che le scarpe dicono che tu non sei ladro perché sono belli, va bene così. Ora mi devi dire scusami. Scusami. Adesso iniziamo a giocare. Guarda. C'è anche il latte. Facciamo la cena con verdure e pane. E latte. Ti piace mangiare queste cose? Sì. Ce l'ho anche una pentola per te. Tieni. Qui c'è la zuppa. Hai fatto la zuppa. Ma come sei bravo, veloce e carino. Grazie mille. Niente. Ora mi hai perdonato, vero? Sì, ora ti ho perdonato. Oh no, 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 no. No, stai tranquillo Rio. È un amico ora. È un amico, stai tranquillo. Oh, che bel cagnolino. Mi piace tanto, tanto. Non mi ha abbaiato. È perché lui è troppo buono. Non abbaia le persone cattive. Ma io non volevo fare il cattivo. Ora lo vedo che non volevi. Va bene, dai. Vai, vai Rio, vai. Ora mangiamo. Bambini, se vi piace e ci credete a lui che non è cattivo, mettete mi piace e guardate gli altri video. Sì, bambini, grazie. Bon appetit a noi. Bon appetit a noi. Ciao, bambini.